I Ghi, noti anche come la tribù Ghi, sono visitatori provenienti da un altro mondo, alieni rispetto alle terre di Gaia. La loro venuta non è dettata da scopi di conquista o curiosità, ma da una necessità impellente, la sopravvivenza. Un cataclisma ha cancellato il loro pianeta natale, spingendoli a una fuga disperata attraverso lo spazio stellare, fino al loro arrivo su Gaia. Giunti in un mondo non loro, i Ghi si sono sentiti immediatamente estranei e non accolti, percepiti come invasori e visti con sospetto. Questo li ha portati a vedere i Setra, gli abitanti originari di Gaia, come nemici da temere e contrastare. Nel racconto originale di Final Fantasy VII, i fantasmi dei Ghi si manifestano con fattezze spettrali, sembianze umanoidi scheletriche, abbigliamento scarso, armati di lance primitive e di statura imponente, superiore a quella degli umani. Ma la loro rappresentazione evolve in Final Fantasy VII Rebirth. I Ghi assumono un aspetto più umano, con pelle di un profondo blu scuro, orecchie a guzze, e sono maestosamente adornati con bestie eleganti, gioielli scintillanti e ornamenti di ossa, che conferiscono loro un'aura di misteriosa nobiltà tribale. Dopo il loro arrivo su Gaia, nel corso del tempo molti di loro perirono. Tuttavia, a causa della loro origine extraterrestre, i loro spiriti non furono assorbiti nel flusso vitale. La vita, così come il conforto dell'abbraccio della morte, gli erano stati negati per l'eternità. Disperati, i Ghi si rivolsero a Isetra in cerca di aiuto, nel tentativo di intercedere col pianeta, che li rifiutava, ma questi voltarono loro le spalle. Consumati dalla furia e dal rancore, i Ghi, un tempo nobili ma ora trasformati in spiriti tormentati, escogitarono un piano oscuro per colpire al cuore i loro nemici, Isetra. In un atto di disperazione e vendetta, riuscirono a sottrarre a Isetra un artefatto di potenza inimmaginabile, una materia magica pura. Con oscure cerimonie e incantesimi proibiti, i Ghi infusero questa reliquia con la loro anima tormentata, trasformandola in una sfera avvolta dalle tenebre, carica di un potere devastante. Mattezzarono questo artefatto, materia del sollievo, un nome che celava una verità sinistra. Il suo potere avrebbe potuto annientare il pianeta, disintegrando ogni forma di vita e portando, infine, il silenzio eterno dell'oblio. La materia del sollievo rappresentava per i Ghi la chiave per un'apocalisse liberatoria, un'opportunità per porre fine al loro tormento immortale e all'esilio forzato sulla Terra che non li aveva mai accolti. Tuttavia, prima che i Ghi potessero scatenare il cataclisma, Isetra, in uno sforzo disperato per salvare il loro mondo, intervennero con astuzia e coraggio. Con una battaglia epica, intrisa di magia e sacrificio, Isetra riuscirono a recuperare la materia oscura dalle grinfie dei Ghi. Ma incapaci di distruggere o purificare l'oscura e corrotta materia nera, Isetra, custodi dell'equilibrio planetario, furono costretti a cercare una soluzione drastica per evitare che un potere tanto devastante cadesse nelle mani sbagliate. Così, era essere un'enorme costruzione, un labirinto di proporzioni colossali, progettato non solo per confondere e scoraggiare eventuali avventori, ma per proteggere l'oscuro artefatto al suo interno. Con sapiente maestria e incantesimi dimenticati, Isetra sigillarono quindi la pericolosa reliquia all'interno del labirinto per garantire che nessun essere, per quanto astuto o potente, potesse mai raggiungere l'artefatto, essi forgiarono una chiave litica, uno strumento di pietra inciso con simboli arcani e la nascosero in un luogo distante, avvolto da enigmi e custodito dalle forze della natura stessa. Senza quella chiave, il labirinto che celava la materia nera non si sarebbe neanche potuto vedere. Con il passare dei secoli, l'esistenza della materia nera e la vera natura dell'imponente struttura furono avvolte dall'oblio. Le generazioni si susseguirono e la memoria di quelle conoscenze si offuscò insieme a quelle dei Setra, fino a diventare leggenda. I pochi eruditi e guardiani che ancora conoscevano la storia del luogo lo iniziarono a chiamare il Tempio degli Antichi. Ma al tempo, non contenti di aver sottratto e messo al sicuro il mortale artefatto nero nelle profondità insondabili del pianeta, i Setra imprigionarono gli spiriti dei Ghi in un abisso senza luce, lontani dal Lifestream, condannandoli a un'esistenza ancora più tormentata. In questo modo, i Setra speravano di aver messo al sicuro il destino del loro mondo, seppellendo anche gli spiriti vendicativi che avevano creato la materia nera, cercando di usarla per la distruzione finale. Il Tempio, con i suoi misteri e la sua storia dimenticata, rimase un monumento invisibile e silenzioso a un'epoca in cui i Setra avrevano affrontato e confinato una minaccia così grande da poter annientare l'intero pianeta. Mentre le civiltà sorgevano e cadevano, il Tempio degli Antichi continuava a custodire il suo carico mortale, in attesa che forse, un giorno, qualcuno avrebbe scoperto i suoi segreti o, peggio ancora, liberato il potere che si sforzava di contenere. E così, i Ghi rimasero nell'ombra per anni finché non emersero nuovamente, attaccando Cosmo Canyon in un'improvvisa esplosione di rabbia repressa. L'anno 1959 segnò un capitolo oscuro per Cosmo Canyon, un villaggio protetto dalla specie leonina di Nanaki. I Ghi, ancora bramosi di vendetta, escogitarono un piano di attacco attraverso le sinistre caverne che si trovano sotto il villaggio, da allora note come Caverna dei Ghi. Resistendo valorosamente, i genitori di Nanaki combatterono fino all'ultimo respiro, ma la rabbia degli spiriti dei Ghi ebbe la meglio e le loro frecce avvelenate pietrificarono Seto, il padre di Nanaki, trasformandolo in un eterno guardiano della caverna a protezione della valle. Nanaki crebbe credendo che suo padre avesse abbandonato lui e sua madre, ma durante una visita alla Caverna dei Ghi scoprì la verità su quell'eroico giorno. Questa rivelazione trasformò il dolore e l'odio di Nanaki in un profondo senso di orgoglio e rispetto per il sacrificio supremo dei suoi genitori, i quali divennero per lui simboli di vero eroismo e amore incondizionato. Nel cuore oscuro della caverna, Nanaki si confrontò con Ghi Nattak, il temibile leader dei Ghi. Quest'ultimo condusse lui e i suoi compagni in un limbo tra vita e morte, dove, come un dantesco Virgilio, rivelò le sofferenze del suo popolo e implorò la restituzione del loro tesoro più sacro, rubato secoli addietro dai Setra. Ma lo spirito di Ghi Nattak rivelò anche che Seto aveva tradito una promessa fatta loro e che questo era il motivo della loro rabbia nei confronti della valle. Quel giorno, Seto si addentrò da solo nella caverna per convincere i Ghi a non avanzare. Riconoscendo in lui coraggio e sincerità, i Ghi riposero in Seto le loro speranze. Chiedevano di riavere la materia nera e di potersi dissolvere per sempre nel riposo eterno. Ma non appena lui udì la loro richiesta, cambiò improvvisamente atteggiamento. Non poteva esaudire la loro volontà di distruzione. L'antica scelta dei Setra di voltare loro le spalle ora ricadeva sulle sue. Il suo tradimento li sprofondò nel dolore alimentando ulteriormente la loro rabbia e mentre veniva trafitto da una pioggia di frecce Seto parlò Io sono sempre stato disposto ad ascoltarvi se invece volete colpirmi sono pronto a morire ma non vi permetterò mai di entrare nella valle. La determinazione di Seto non vacillò e con il veleno nelle vene e il corpo pietrificato continuò a contrastare con fermezza il loro feroce attacco. I ghi delusi e sfiniti sprofondarono nuovamente nelle tenebre dell'abisso senza potersi dissolvere nel livestream e senza trovare consolazione. Dopo quella rivelazione Nanaki promise ai ghi di trovare una via per lenire il loro dolore e concedere loro il riposo eterno. Una volta che gli spiriti si dissiparono Red confidò a Cloud la sua lealtà e il suo impegno. Sebbene non avesse mai avuto l'intenzione di consegnare la materia nera ai ghi il suo obiettivo rimaneva chiaro trovare una pace definitiva per quella tribù una promessa di quiete nel tumulto del loro tormentato passato. La genesi della materia nera si radica nel dolore e nella sofferenza insopportabile dei ghi anime vaganti prive di pace nati da una calamità che ha annientato il loro mondo i ghi si sono trasformati in rifugiati spettrali intrappolati in una realtà che non riconoscono come propria e costantemente perseguitati dalla tragedia del loro passato. Sebbene il dialogo con i ghi potesse sembrare un'impresa ardua dal punto di vista dei setra essi rimangono vittime di un destino crudele la questione di un loro possibile salvataggio che avrebbe preservato sia la loro integrità fisica che spirituale rimane avvolta nel mistero sollevando interrogativi etici profondi sulla loro esistenza tormentata e sui confini delle responsabilità morali nei loro confronti. Dalle testimonianze dei setra sappiamo che i ghi giunsero dopo l'avvento e la guerra contro Genova ma non ci sono notizie riguardo ad altre calamità né meteore né altro giunto su Gaia dal cosmo infinito. Perciò le possibili ipotesi sul luogo di origine dei ghi sono due. Si potrebbe pensare che siano semplicemente giunti attraverso una fusione di mondi così come ce la descrive Sephiroth nel finale di Rebirth. Del resto Ginnattac descrive la fine del loro mondo dicendo la nostra terra vecchio e senza energie il nostro pianeta divenne parte del vostro il cielo si aprì il suolo si spaccò il mare scomparve e il tempo si contorse due su quattro le abbiamo viste anche nei mondi che esploriamo con Zack cielo squarciato e tempo distorto la loro esistenza sarebbe quindi la prova che gli esseri viventi sono vivi anche negli altri mondi e che possono continuare ad esserlo anche nel mondo base ma questo va in netto contrasto con quanto sappiamo infatti quando i mondi si riuniscono vengono assimilati nel livestream così come ogni forma di vita che li popola mentre i ghi vengono respinti dal livestream inoltre nell'ultimani abbiamo la conferma che solo il mondo base quello Beagle è effettivamente vivo tutti gli altri sono solo dei riflessi quindi resta una sola opzione i ghi devono essere arrivati con Genova perciò la calamità che ha distrutto il loro mondo deve essere proprio Genova e sono giunti su Gaia assieme a lei su ciò che restava del loro mondo e esattamente come lei infatti vengono rifiutati dal livestream perché esattamente come lei sono alieni alla vita creata da Gaia oltretutto aspetto e proporzioni sono ben diversi da quelli dei setra o degli umani quindi teoricamente non possono essere in alcun modo nati da Gaia neanche in un'altra sua realtà quindi sì i ghi sono la stirpe che popolava il pianeta preso di mira da Genova prima di Gaia del resto lo sappiamo Genova si comporta così contamina un pianeta come un virus infettando e corrompendo ogni forma di vita poi usa quel pianeta per vagare nel cosmo e trovarne uno nuovo dove ricominciare questo macabro rito la vita è il suo cibo Genova è letteralmente un divoratore di mondi e i ghi sopravvissuti all'impatto su Gaia non sono altro che i suoi avanzi e forse è proprio da quel fiero popolo ormai caduto che Genova ha ereditato il viola dei suoi occhi d'altronde è così che riesce a farsi strada nelle menti delle sue vittime assumendone le sembianze e esattamente come il più classico dei serial killer probabilmente anche Genova conserva sempre qualche elemento che le ricordi il suo ultimo pasto grazie all'esplorazione narrativa di Final Fantasy VII Rebirth veniamo introdotti a molti dettagli inediti sui ghi arricchendo considerevolmente il tessuto della storia con la straordinaria resa visiva di questo titolo possiamo anche ammirare il loro aspetto in forme più curate che rivela una complessità in passato non apprezzabile questa dimensione ludica si fonde perfettamente con la narrazione elevando i ghi da semplici antagonisti a pilastri fondamentali della trama componenti indispensabili dell'arco narrativo principale segnando così un notevole salto di qualità rispetto al loro ruolo originale per quanto riguarda la calamità avvenuta dal cielo sappiamo ora che anche gli umani lottarono contro quell'abominio e che sparse i suoi semi anche tra loro oltre che tra i setra sappiamo che non potendosi dissolvere nel live stream si impose un lungo riposo nel quale la sua identità cambiò ottenendo il nome di genova questo ci viene detto dai setra all'interno del loro tempio ma questa è un'altra storia bene direi che anche per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto in caso pollice in su ditemi cosa ne pensate nei commenti qua sotto in descrizione al video trovate tutti i link utili vi ringrazio come sempre per essere stati fin qui e vi do appuntamento al prossimo video che in questa serie in particolare come avrete intuito parlerà dei setra non mi resta quindi che darvi appuntamento alla prossima Gianni grazie a tutti